Una delle partite più brutte dal punto di vista estetico che io abbia commentato negli ultimi due anni almeno cioè veramente come dicono alla BoboTV c'è un pessimo spot per il calcio italiano ragazzi è stata una rottura di palle in vereconda dall'inizio alla fine sì tanta intensità tanta sofferenza tanta garra tanti contrasti però a conti fatti poche occasioni poche occasioni da una parte e dall'altra poi se dobbiamo andare a vedere i dati nudi crudi e le statistiche il Milan probabilmente ha creato qualcosa in più della Juve ha creato più presupposti quantomeno per poter segnare rispetto alla Juve che letteralmente cioè nel senso specifico scesmi due tre parate le ha fatte quantomeno megnone neanche quelle quindi nel complesso vi dico qualcosina in più abbiamo creato però il pareggio è giusto è giusto e sacrosanto perché questa sera abbiamo avuto purtroppo la conferma di una cosa la conferma di un aspetto purtroppo che non funziona nella nostra squadra ovvero la mancanza totale e assoluta di cattiveria quando si arriva nella zona calda quando si arriva in zona gol e quando si arriva al ridosso dell'area credevamo di avere risolto parzialmente o del tutto questo errore all'inizio della stagione quando il Milan faceva delle grandi partite andando a Bergamo insomma vincendo partite veramente importanti però ultimamente ci siamo ricascati ci siamo ricascati perché quando c'è un cross in area non vedo mai la cattiveria giusta l'inserimento non è mai fatto con il tempo giusto la palla non viene mai attaccata come deve essere attaccata e va detto in maniera assolutamente chiara oggi dal punto di vista dell'ultimo passaggio siamo stati inesistenti la Juve qualche occasione ce l'ha concessa perché loro qualche più di qualche disimpegno a centrocampo l'hanno sbagliato qualche palla sanguinosa l'hanno persa ma noi non ne abbiamo approfittato mai anche avendo quella minima superiorità numerica siamo stati capaci di buttare letteralmente nel water anche quelle poche anche quelle poche palle da cui poteva scaturire qualcosa di pericoloso la scelta di Messias non ha pagato per niente Messias ha fatto una partita imbarazzante proprio letteralmente imbarazzante cioè secondo me oggi Messias è stato terrificante cioè una delle partite più brutte che gli abbia mai visto fare se non in assoluto la più brutta e probabilmente perché Pioli consapevole di questa bravura della Juve nel creare densità nella sua metà campo voleva mettere magari un giocatore più bravo a saltare l'uomo evidentemente la lettura è stata quella ma Messias non ha dato letteralmente niente non ha dato quasi niente Diaz che quantomeno allora Diaz a differenza di di Messias quantomeno a livello di gioco sporco la sua partita l'ha fatta almeno quello Messias non ha fatto neanche quello cioè Messias oggi ha sbagliato letteralmente tutto quello che poteva sbagliare e per poco non regalava anche un rigore alla Juve se dobbiamo dirla tutta quanta quindi tragici tragici in avanti l'ingresso di Giroud non ha funzionato non ha funzionato assolutamente anche Giroud oggi totalmente negativo ha sbagliato una palla in maniera folle perché quello cioè non riesco neanche a definirlo un errore cioè è una follia quella di Giroud che davanti al portiere anziché tirare prova una sponda per il nulla veramente una cosa assolutamente folle non capisco perché Rebic che è in assoluto il giocatore che la Juve soffre di più storicamente abbia giocato solo un quarto d'ora non capisco letteralmente perché una roba anche questa inspiegabile Ibra poi si fa male perché ovviamente anche questo bisogna ammettere no perché ragazzi cioè se non c'è almeno un'infortuna partita che volete che sia una partita del Milan assolutamente no quindi Ibra si fa male ha avuto un problema da quello che hanno detto in telecronaca al tendine d'Achille quindi bisogna vedere anche che cosa ne sarà di Ibra in ottica derby quindi questo questo è quello che traggo da questa serata una brutta partita se devo se devo trovare delle delle cose positive Teo Hernandez non è stato ammonito quindi Teo ci sarà nel derby e questo quantomeno è è positivo non abbiamo perso quindi la Juve la teniamo a distanza quindi quantomeno quello però chiaramente ormai in ottica scudetto ragazzi è inutile ormai non c'è più niente o vinci il derby o basta cioè il derby è letteralmente l'ultimissima chiamata e questo è perché poi sostanzialmente non non hai più nessuna alternativa cioè questo è quello che devi fare ora cioè preparare in maniera perfetta il derby che si giocherà tra due settimane speriamo di recuperare qualche altro pezzo durante la sosta penso a Tomori penso a che sì nella speranza che Momo Salacci faccia questo piacere ed elimini la costa d'Avorio da sta Coppa d'Africa e poi e poi che dire ah visto che Ibra con ogni probabilità potrebbe non so salterà il derby comunque si è fatto male quindi a questo punto Ibra è da considerare in dubbio per il derby e chiedo una cosa proprio per la mia sanità mentale gentilmente nel derby vorrei Rebic titolare al centro dell'attacco del Milan io chiedo questa cosa perché oggi Giroud ragazzi non lo so cioè oggi Giroud è entrato in maniera incredibile cioè nel senso negativo del termine poi per carità questa non era sicuramente una partita per fare brillare le punte però Giroud cioè raga tutti i palloni che ha avuto li ha giocati di merda tutti eh tutti i palloni che ha avuto li ha giocati di merda quindi io non so io sono proprio in difficoltà nel commentare la partita che ha fatto Giroud stasera e mi dispiace perché comunque ripeto un giocatore che mi sta anche simpatico però oggi questo abbiamo visto cioè una roba veramente brutta e poi raga e poi basta questo speriamo soltanto che di avere un po' di fortuna in questa sosta con l'infortunio di Tomori che a questo punto ci serve come il pane spero che anche Romagnoli non abbia niente perché anche lui ha preso una brutta botta alla fine della partita quindi vediamo anche lui che cosa avrà e altre note positive ecco la partita di Romagnoli perché l'abbiamo criticato spesso e volentieri tante volte spesso e volentieri i suoi errori vengono messi più in risalto rispetto agli errori degli altri oggi Romagnoli ha fatto una partita da otto in pagella assolutamente come ha fatto è stato perfetto nelle letture perfetto negli anticipi non ha fatto fare un cazzo a Di Bala quindi oggi un Romagnoli strepitoso lui sì lui veramente strepitoso ma in generale tutta la difesa secondo me oggi ha funzionato alla grande anche Tonali mi è piaciuto Krunic mi è piaciuto il problema è ragazzi il reparto offensivo cioè il reparto offensivo oggi è stato totalmente nullo anche Leao Leao quantomeno ci ha provato a differenza degli altri quantomeno nel fare un tiro ogni tanto qualche ce n'è senso alla fine l'unico tiro in porta veramente pericoloso oggi l'ha fatto Leao quindi quantomeno questo però non lo so è un punto che ci dobbiamo prendere che è un punto positivo in ottica Champions però chiaramente negativo in ottica sogno perché in ottica sogno chiaramente adesso diventa tutto complicatissimo ma vediamo cosa succederà fra due settimane ragazzi niente io vi saluto vi ringrazio sempre forza Milan nonostante tutto e ci vediamo ad un prossimo video buonanotta grazie a tutti